L'Italia ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua greca in bronzo dell'atleta di Fano, attribuita all'Esippo, che si trova attualmente nel museo della Villa Ghetti a Malibu, in California. Lo ha stabilito all'unanimità la Corte Europea dei Diritti Umani, respingendo il ricorso presentato dalla Fondazione Paul Ghetti per violazione della protezione della proprietà. Nella sua sentenza la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la legittimità dell'azione intrapresa dalle autorità italiane per recuperare l'opera d'arte. I giudici in particolare hanno sottolineato che la protezione del patrimonio culturale e artistico di un paese rappresenta una priorità anche dal punto di vista giuridico. La Fondazione Ghetti, sottolinea inoltre la Corte, si è comportata in maniera negligente o non in buona fede nel comprare la statua nonostante fosse a conoscenza delle richieste avanzate dallo Stato italiano e degli sforzi intrapresi per il suo recupero. Da qui la constatazione che la decisione dei giudici italiani di procedere alla confisca del bene conteso è stata proporzionata all'obiettivo di garantirne la restituzione. Il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, dopo la notizia legata alla sentenza della Corte di Strasburgo, ha detto che la restituzione dell'atleta di Fano è una questione sulla quale il suo ministero ha lavorato in maniera serrata, aggiungendo di aver diramato una circolare con la quale il governo ha stabilito che non si faranno più prestiti ai musei che hanno contenziosi con l'Italia. La statua dell'atleta che si incorona era stata rinvenuta in modo fortuito da un pescareccio fanese il 14 agosto 1964 al largo della città della Fortuna. Sbarcata Fano, la statua venne acquistata da un antiquario di Gubbio e fu poi oggetto di una serie di vicende legate al mercato clandestino di antichità, concluseci con l'acquisto nel 1977 da parte del Paul Getty Museum. Dal 1979 è iniziata una delle diatribe artistiche internazionali più travagliate degli ultimi anni. Nel 2018 la Corte di Cassazione aveva dato il via libera alla confisca della statua disposta dal giudice del Tribunale di Pesaro, decisione contro la quale era stato presentato ricorso alla Corte di Strasburgo. Ora la sentenza della Corte dei Diritti Umani.